transita lenta prima gli inni chiesa attorno alla bara le campane suonano a morto poi la bara che transita lenta davanti a me eccoti il segno di croce perché tutto questo commento tu ancora non sai che la morte è salubre e sacra perché ti guarisce dalla bassa condizione umana